c'è qualcuno nascosto lì c'è qualcuno nascosto lì c'è qualcuno nascosto lì non mi piace questo ruolo ecco ha perso il segno chi è che guida la ricerca del palantino? capitano che guida la ricerca è nella città bassa allora non andiamo è lì è lì ci sono davvero difesi bene nella città è senza morte pensavo fosse morto lo è battaglio nel blanco non è tua robina non è tua robina ci sta mettendo male per i gondoriani dobbiamo aiutarli il palantire è un manufatto potente se ce n'è il padronissimo potremmo cambiare tutto potremmo 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 che non 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 Grazie a tutti. Il mondo spettrale rivelerà la sua presenza. Ogdur. Il mondo spettrale rivelerà la sua presenza. Se lo vedete, correte subito a dirmelo. Non la toccate! E adesso ve lo ripeto. Non la toccate! Oh, ho sentito parlare di te e dello spettro. Si dice in giro che tu non possa morire. Beh, proviamo a vedere se è vero! Per Dondor! Morirai con il orgo! Non prenderete la nostra città! Vendicherò i miei fratelli! Vendicherò i miei fratelli! Perché sei qui da sola? La mia squadra è rimasta chiusa nella città bassa ieri notte. Quanti eravate? Non abbastanza. Beh... Mina Sittil resiste ancora. Stiamo per perdere la città di mezzo, Ramingo. Chiuderanno i cancelli se non l'han già fatto. Dobbiamo arrivare lì il prima possibile. Ti seguirò come un'ora. Aspetta. Come ti chiami? Idril. Talion. Non restare indietro, Talion. Abbiamo già perso troppi uomini. Hai sentito, Ramingo? Chiudono i cancelli. Allora facciamoci strada, Filipe. Il sergente Tarandur avrà bisogno di noi. Andiamo. Venire qui è stato un errore. Arion avrà bisogno di noi. Non possiamo abbandonarlo. No. Allora facciamoci strada. Non lasciate che chiudano il cancello. Non avrai mai. Non è oggi che domani. Sporchi umani. È come nella visione vicina. Se le forze di Sauron dovessero trovare il palantir, tutta la terra di mezzo ne soffrirà. Non va affatto bene. È così da settimane. Grazie! Grazie! Il sergente d'agora e i suoi soldati sono nell'arena. Dobbiamo aiutarli! Abbattete la re... Abbiamo perso la città di mezzo! Adonata al cancello! Avanti! Copriamo noi la ritirata! È infinito! È finita! Al cancello! Tieni! Il cancello si chiude! Siamo dietro di te! Venire qui è stato un errore. Agente D'agora! Tieni! Mi prenderò la tua testa! Siamo dietro! Tieni! Stavi! Pergente D'Agore, partiamo a ritirare. La città di mezzo è persa. Non fida di aver finito questi sporchi. Sei finito! Chiudono i cancelli. Tagliamo. Ti stai stancando? Forza, Ramingo! Hai sentito anche tu? Prenderò la tua testa! Fumagli i nemici. Presto! Sotto il cancello! Muovetevi! Che cosa stai facendo? Ci metterò poco. Tu va. Via gli arciari di copripo. Crepa come i due. Quindi, Tark! Presto! Luceghiamo! Fregimentoli! Buongiorno! Buongiorno! Prendiamo! Rituramento! No! La città di mezzo è persa. Ci siamo battuti e hanno sudato ogni centimetro. Ma ora è loro. Allora qui si deciderà il nostro fatto. Le mura interne sono forti e abbiamo il doppio dei loro arcieri. Non ne guaglieremo mai il numero degli orchi o la loro ferocia. La nostra gente ha già respinto le forze di Sauron in passato. Ma alcune cose le ha perse per sempre. Sì, questo è vero. Vai alla grande sala. Proteggi le reliquie. Il mio posto è qui. Assicurati che vengano portate a Enetannun. E questo è un ordine? Cerca di capire. Dobbiamo difendere ciò che abbiamo di più prezioso. A ogni costo. Sì. Questo è un ordine. Allora sarà fatto. Ma tornerò sulle mura prima del prossimo attacco. Un ramingo del Cancello Nero. Credevo foste tutti morti. Infatti è così. Se vuoi combattere per Mina Seatil, ramingo, parla col Capitano Baranor. Non sono qui per unirmi al tuo esercito, ma per il Palantir e la sua sicurezza. Proteggi la città e il Palantir sarà al sicuro. Comunque, i nostri incursori stanno attaccando i Capitani nemici nella Città Bassa. Vuoi seminare fra loro il terrore? Sì. È ora che scoprano che cos'è la paura. Gli uomini sono radunati, generale. Dobbiamo mettere al sicuro il Palantir. La città è debole e non resisterà a lungo. Non possiamo abbandonare i Gondorian.